Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale siamo qui oggi per un altro format testivo che questo vorrei che ci accompagnasse per tutto il periodo di luglio magari anche qualche inizio, qualche giorno anche ad agosto perché andiamo a fare un focus squadra per squadra in preparazione per l'appunto della nuova stagione di serie B oggi ci concentriamo sulla Sampdoria, sulla nuova Sampdoria targata Raddrizzani e Andrea Pirlo come allenatore, le grottaie come DS generale ed è per questo che oggi andiamo a fare un bel focus sulla Sampdoria andiamo a vedere un po' di cose, obiettivi di mercato, la sede di ritiro andiamo a vedere qualche giocatore chiave che può essere per quest'anno l'allenatore, il mio parere sull'Andrea Pirlo allenatore e tante altre cose si chiamerà, possiamo chiamarlo come format ragazzi, il Bar Sport Serie B fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento cosa ne pensate vi invito anche a lasciare 30, 40, 50, mi piace qua sotto un'iscrizione al canale totalmente cresciuta ragazzi, mi raccomando iscrivetevi e noi partiamo subito partiamo per l'appunto da Andrea Pirlo, il nuovo allenatore cosa ne pensi un po' in generale di Andrea Pirlo sono molto curioso di vedere Andrea Pirlo all'opera perché questa sarà la sua prima esperienza di ritorno in Italia dopo la breve esperienza in Turchia l'anno scorso comunque a tratti anche positiva ma lo farà non nel capo di Serie A dove aveva già avuto un'esperienza con la Juventus ma lo farà la Sampdoria per l'appunto in Serie B e occhio perché tra Serie B e Serie A sappiamo che c'è differenza si gioca un altro tipo di calcio e soprattutto lui ha scelto un progetto totalmente nuovo e quindi questo può giocare a suo favore perché comunque può determinare magari anche insieme alla società la scelta di alcuni giocatori di andare a prendere e soprattutto può costruire veramente lui qualcosa di nuovo perché questa è una Sampdoria che riparte da zero nuovo proprietà, nuovo allenatore, campionato diverso campionato più basso, di livello più basso rispetto alla Serie A ed è per questo che Pirlo può fare veramente bene e può creare diciamo la sua creatura targata Sampdoria dovrò farlo comunque seguendo, raggiungendo gli obiettivi che poi diremo più tardi però sicuramente Pirlo alla Sampdoria è un'idea che intriga molto e potrebbe essere un matrimonio interessante andiamo avanti dicendo un po' statistiche della vecchia stagione sappiamo tutti che la Samp arriva da una stagione molto molto difficile da una stagione ragazzi complicata chiusa all'ultimo posto della Serie A 2022-2023 raccogliendo solo 19 punti in 38 partite 3 vittorie, 10 pareggi, 25 sconfitte tantissimi problemi societari che hanno sicuramente inciso sulla stagione pessima dall'anno scorso ed è per questo che per quest'anno la Samp ha tutto un capitolo nuovo deve cercare di ricostruire ed andare a Pirlo è stata la persona scelta per farlo e lo può fare molto bene per l'appunto mettere da parte la bruttissima, la pessima stagione dell'anno scorso e ripartire in Serie B con nuove ambizioni e con nuovo spirito sicuramente ed è per questo che la Samp ha già individuato due o tre obiettivi di mercato io partirei da due obiettivi principali ragazzi quello di Fabio Maestro che nei prossimi giorni potrebbe già diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Samp dovrebbe arrivare dalla SPAL manca solo praticamente l'ok della SPAL perché il contratto è già stato concordato con il ragazzo il ragazzo è ben disposto ad accettare l'offerta della Samp perché sa che andrebbe ad approdare una piazza grande con grandissimi tifosi sicuramente una piazza che comunque chiede poi tanto ai giocatori ma Fabio Maestro dove ha giocato lo scorso anno ha giocato per l'appunto ragazzi alla SPAL ha giocato un campionato di livello normale non ha fatto una stagione clamorosa anche perché la SPAL ricordiamo che l'anno scorso è retrocessa dalla Serie B alla Serie C ha fatto 32 presenze 5 gol e 2 assist 2 munizioni un'espulsione diretta 2050 e minuti raccolte ha fatto anche 2 presenze in Coppa Italia ma comunque in una stagione negativa molto negativa per la SPAL culminata con la retrocessione diretta in Serie C Maestro è stato uno dei pochi segnali di luce in quella SPAL con 5 gol e 2 assist un attaccante molto un centrocampista scusatemi molto interessante può giocare centrocampista centrale può giocare centrocampista di sinistra può giocare alla sinistra può fare la seconda punta può fare all'occorrenza anche il trequartista è un giocatore molto duttile Fabio Maestro un giocatore forte tecnicamente molto valido a me piace molto e come colpo per Pirlo potrebbe essere perfetto perché a Pirlo questi giocatori piacciono sono giocatori che possono spaziare in più ruoli ma lui messo come centrocampista centrale mezzala di inserimento diciamo e anche centrocampista esterno può rendere veramente tanto perché ha grandi qualità tecniche e anche il fiuto del gol perché comunque 5 gol non sono pochi può migliorare deve migliorare in questo ma potrebbe essere un grande obiettivo di mercato quello di Fabio Maestro altro nome che interessa molto che nella prossima settimana potrebbe essere ufficializzato è quello di Fabio Borini Fabio Borini che attualmente ragazzi è svincolato su di lui c'è forte l'interesse della Samp perché Pirlo l'ha avuto per l'appunto l'anno scorso nella sua esperienza in Turchia al Karamug Borini viene da una buona stagione è fatta culminata da 30 presenze in Turchia con 20 gol e 9 assist in 2384 minuti veramente un qualcosa di impressionante il nome di Borini che ha fatto molto bene nel campionato maggiore nella Serie A turca possiamo dire ed è per questo che Borini a 32 anni in Serie B allenato da Pirlo che l'ha avuto già l'anno scorso potrebbe fare la differenza e sono curioso di sapere se questa trattativa può andare in porto fonti attendibili dicono che la trattativa potrebbe raggiungere la fase decisiva la prossima settimana si potrebbe chiudere la prossima settimana ed è per questo che Borini in Serie B con Pirlo può rendere molto bene in una piazza importante come la Sampdoria lui ha fatto può fare la prima punta centrale può fare l'esterno a sinistro che è il suo ruolo naturale può fare l'esterno a destra può fare la seconda punta veramente un giocatore che per quanto riguarda il modulo 4-3-3 modulo che penso che andrà a utilizzare Andrea Pirlo con la sua Samp può essere veramente duttile e soprattutto parte garanzie importantissime perché si ha fatto 20 gol nella Serie Turca non vedo perché non ne possa fare magari 10-15 in Serie B sempre con Andrea Pirlo in panchina questi sono i due grandi nomi caldi che sta trattando la Sampdoria in questi giorni in queste ore e dopo aver trattato un po' di calcio mercato ragazzi per l'appunto vediamo dove nascerà una nuova Sampdoria dove la Samp andrà a fare il ritiro estivo dove la creatura di Andrea Pirlo prenderà forma perché la Samp ragazzi il 12 luglio quindi fra 4 giorni partirà per Livigno partirà per l'Alta Valtellina dove rimarranno fino al 23 luglio quindi tanti giorni di ritiro 11 giorni per l'esattezza di ritiro dove cercare di fare il meglio per costruire le basi per una nuova stagione la squadra alloggerà all'hotel Intermonti si allenerà al centro sportivo Acqua Granda sicuramente è un ritiro che può fare molto bene i ritiri sono importanti per questa squadra di serie B per cercare di mettere su basi solide per la serie B durante il ritiro sono già state programmate tramichevoli il 16 luglio l'ora 17 contro la rappresentante del paese il 19 luglio sempre l'ora 17 contro una squadra che si chiama Giona è formazione svizzera ragazzi paragonabile diciamo alla serie C svizzera perché è mita in quel campionato lì infine domenica 23 luglio ultima amichevoli quella sempre l'ora 17 contro l'Aurora Pro Patria l'Aurora Pro Patria è una squadra di serie C del Gironea e diciamo che per le tre amichevoli programmate fino a questo momento è quello un po' più difficile possiamo dire sulla carta però sono tre amichevoli tre test per capire che tipo di lavoro avrà svolto già Andrea Pirro sappiamo che poi ragazzi il vero test i veri test saranno solo quelli ufficiali ovviamente quando inizierà il campionato abbiamo parlato di ritiro abbiamo parlato di calcio mercato parliamo anche un po' di obiettivi stagionali che obiettivi avrà la San Potere di Andrea Pirro sicuramente l'obiettivo minimo è quello di raggiungere i playoff io non credo che la società voglia subito mettere grandissima pressione ad andare a Pirro magari costringendolo subito una promozione diretta passando ovviamente tra i primi due posti io credo che Pirro e la società vogliono quanto meno raggiungere i playoff e poi ovviamente una volta che ti giochi i playoff li devi giocare per vincerli ma credo che l'obiettivo minimo sia quello ovviamente se tutto andrà bene e la squadra seguirà molto bene Pirro la squadra giocherà molto bene a calcio sarà spinta nei tifosi e tutto credo che poi l'obiettivo principale sia quello ovviamente di raggiungere la promozione diretta ma credo fermamente che a Pirro avrà chiesto quanto meno di raggiungere i playoff poi una volta che giochi i playoff li giochi sicuramente per vincere magari piazzandosi piazzandosi a un terzo o quarto posto che ti garantirebbe ragazzi l'accesso alla semifinale playoff giocando ricordiamo la seconda partita in casa fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento cosa ne pensate di questo nuovo format pollice nel suo video iscrizione al canale noi ci becchiamo a un prossimo video bella ragazzi